acconsento.click è la soluzione in cloud che permette di generare attraverso widget in modo dinamico la privacy policy e la cookie policy per il tuo sito web e tutti quelli dei tuoi clienti tutti i siti web devono avere una privacy policy e una cookie policy infatti tutti i siti che ne sono sprovvisti o che hanno tale documentazione datata sono passibili di sanzioni che vanno dai 20 mila euro ai 125 mila euro come previsto dalla cucchia vale davvero la pena rischiare acconsento.click è la soluzione più economica del mercato che in pochissimi passaggi ti permette di generare questa documentazione in modo veloce e sempre conforme in quanto mantenuta sempre aggiornata dal nostro team di legale i vantaggi che acconsento.click ha rispetto alla concorrenza sono innumerevoli innanzitutto nella licenza di acconsento.click sono incluse anche le lingue straniere quindi non dovrete acquistare più licenze per avere più lingue come accade nelle soluzioni concorrenti infatti in acconsento.click oltre all'italiano sono incluse la lingua russa la lingua francese la lingua italiana e la lingua inglese a breve verranno predisposte anche lo spagnolo e il tedesco a consento.click inoltre non presenta limiti né di click né di views sul widget come invece accade per numerose soluzioni concorrenti la fatturazione è sempre italiana la compatibilità è con tutti i motori di ricerca e il codice univoco che acconsento.click genera a seguito della scansione del dominio è univoco quindi essendo univoco in html è compatibile per tutti i siti quindi il widget di acconsento.click può essere messo in tutti i siti ad esempio per citarne alcuni dei più famosi wordpress e prestashop acconsento.click inoltre permette il blocco degli script e dei tracker a monte del sito ciò significa che l'utente quando accede al sito dove c'è acconsento.click installato vedrà solamente attivati i cookie tecnici cioè quelli funzionali necessari a il funzionamento del sito tutti gli altri cookie partiranno da una situazione disattivata perché appunto come richiede la cookie lo tali i cookie si devono attivare solo sulla base di una scelta volontaria inequivocabile dell'utente quindi la loro attivazione non può essere mascherata da caselle preselezionate oppure da pulsanti che oscurano il pulsante rifiuta oppure non deve essere nascosta con dietro link terzi o non deve essere dato il consenso semplicemente con lo scorrimento della pagina inoltre acconsento.click fornisce la migrazione gratuita quindi se ti stai già rivolgendo a una soluzione concorrente potrai semplicemente passare migrare gratuitamente e usufruire iniziare a usufruire di acconsento.click per tutti i mesi restanti fino alla scadenza con il tuo attuale fornitore inizierai a pagare solo da a decorrere da quel giorno questo è il front end del sito adesso passiamo alla sezione back end cioè alla vostra console reseller che vi verrà attivata dal momento in cui acquistate la prima licenza riceverete quindi le credenziali d'accesso e le istruzioni su come procedere questa console vi servirà sia se volete creare privacy policy e cookie policy per il vostro dominio quindi per il vostro sito sia per i vostri clienti come vedete la console reseller è molto semplice presenta poche sezioni la home page ha tre pulsantoni il primo il pulsantone aziende dove potete tenere traccia del numero di domini che avete attivato quindi il numero di domini per i quali avete generato privacy policy e cookie policy poi pulsante licenza acquistate dove potete tenere traccia del numero di crediti quindi di licenze avete acquistato proprio perché a consento.click si può acquistare per singole licenze o per pacchetti di licenze ovviamente si consiglia di acquistare sempre i pacchetti di licenze per poter usufruire di sconti crescenti basati proprio sulle quantità anche perché le licenze acquistate non scadono cioè iniziano a scadere solo dal momento in cui vengono assegnate ad un cliente quindi si è acquistato un pacchetto di 10 licenze e ne ha attivate due le altre otto non scadono fin tanto non verranno assegnate ad un cliente quindi la scadenza inizia è annuale e inizia a decorrere dal momento in cui si attiva la licenza. Una volta arrivato a un mese dalla scadenza annuale vi arriverà un alert che vi avvisa della scadenza imminente e anche uno 15 giorni prima. Il pulsante cookies invece indica quante policy cookies avete attivato. Adesso vediamo nello specifico come si censisce quindi un dominio quindi proprio o cliente. Basterà cliccare su anagrafiche andare quindi nella sezione aziende cliccare su nuovo per poter avviare la procedura wizard ossia la procedura guidata che vi permetterà in pochissimi passaggi totalmente guidati la creazione di privacy policy e cookie policy per i siti del vostro cliente. Come si vede la prima cosa che chiede sono i recapiti quindi dati anagrafici del vostro cliente. Ci sono i campi obbligatori contraddistinti dall'asterisco rosso gli altri sono facoltativi. Quindi inserirete la mail aziendale del vostro cliente. La mail privacy non è obbligatoria va inserita solamente se c'è un consulente privacy, un dpo o comunque un reparto gdpr all'interno dell'azienda. Il telefono invece obbligatorio deve essere contraddistinto infatti da asterisco rosso e deve essere inserito con i numeri tutti attaccati in quanto poi si formatterà nel modo corretto da solo in automatico tramite la piattaforma. Il fax invece non è un campo obbligatorio. Dopodiché cliccherete su successiva e andrete a mettere i dati aziendali del vostro cliente quindi ragione sociale, partita IVA e codice fiscale. Laddove non è presente un codice fiscale sostituirlo con la partita IVA. Quindi mettiamo la ragione sociale, mettiamo la partita IVA e la incolliamo anche nel campo codice fiscale. Dopodiché clicchiamo su successiva e creeremo per il dominio del nostro cliente un nome, utente, l'indirizzo, la località, il codice d'avviamento postale e la provincia. Ricordiamo che il nome utente deve essere scritto tutto attaccato, senza spazi, senza caratteri speciali. indirizzo, località, codice d'avviamento postale e provincia. Dopodiché cliccherete su successiva e indicherete la tipologia di azienda del vostro cliente quindi se è una ditta individuale, un privato oppure un'azienda persona giuridica, poi indicherete se l'azienda è privata o una pubblica amministrazione, dopodiché indicherete i domini quindi perché il vostro cliente come vi dicevo potrebbe avere anche più di un sito quindi più domini ovviamente su acconsento.click ogni licenza corrisponde a un dominio quindi supponiamo sia uno, campo anch'esso obbligatorio, clicchiamo su completo inserimento e acconsento.click terminerà la sua procedura guidata e vi reindirizzerà dopo un breve periodo sulla pagina d'atterraggio dove vedrete il vostro cliente attivato. Quindi si vedrà la sua mail, si vedrà il telefono, i suoi domini quindi in questo caso uno, la scadenza dell'account è annuale quindi di un anno rispetto alla data d'attivazione, che tipo di soggetto economico è e qui avete tre pulsanti per la gestione del cliente quindi il primo è il pulsante espandi, il secondo è il pulsante modifica, il terzo è il pulsante scansione a dominio. Allora il primo, il pulsante espandi, consente di tenere traccia dei dati anagrafici del vostro cliente quindi dei recapiti, dei dati aziendali, dell'indirizzo e della fatturazione. Poi il secondo pulsante consente la modifica di tali dati anagrafici perché magari il vostro cliente cambia i propri recapiti o cambia i propri dati aziendali o cambia il proprio indirizzo. Poi il terzo pulsante infine è quello fondamentale per scansionare il dominio del cliente, quindi inserirete qui il dominio del cliente che deve essere scritto pulito senza slash e senza HTTP. Dopodiché una volta inserito procederete a cliccare su avvia e in automatico parterà la procedura di scansione del dominio attraverso la barra di scan engine. Cliccando su prosegui adesso vi chiederà di inserire tutti i dati anagrafici del titolare del trattamento proprio per generare in modo granulare la privacy policy per il sito web del vostro cliente. Ovviamente inseriremo nome e cognome se il cliente è una persona fisica, quindi il nome e cognome del legale rappresentante oppure la ragione sociale se è una persona giuridica. l'indirizzo, la città, l'email di riferimento, il telefono che deve essere scritto come vi dicevo tutta attaccato in quanto verrà poi formattato automaticamente dalla piattaforma. Si clicca su successiva, a questo punto si va a indicare i dati di riferimento del DPO, il responsabile della protezione dati, si inseriscono solo se effettivamente l'azienda ha un DPO, altrimenti si salta questa sezione. In questo caso c'è, quindi lo andiamo ad inserire affinché poi compaia nella privacy policy proprio come richiesto dalla legge con i suoi estremi di contatto assieme al titolare del trattamento. Si clicca su successiva e questa è la sezione fondamentale, cioè dove si va a formare la privacy policy per il sito. Come vedete ci sono tutti i trattamenti attivabili, quelli in blu sono attivi di default perché sono i trattamenti necessari per avere una privacy policy che sia conforme per legge perché deve riportare la durata e la cancellazione da chi sono trattati i dati, le avvertenze e le finalità del trattamento. Tutti gli altri trattamenti li attivate solo in funzione delle attività svolte dal sito del vostro cliente. Se per esempio il vostro cliente fa e-commerce, attivate i pulsanti e-commerce, se fa marketing e newsletter attivate i relativi pulsanti, magari anche la live chat attivate anche quella. Quindi cliccate su completo inserimento per terminare la procedura automatica che a breve vi reindirizza nella pagina d'atterraggio corretta, che è l'equivalente di andare manualmente a cliccare su gestione cookies. Fatto ciò, avrete il record del vostro cliente con la data della scansione del dominio, giorno, ora e quindi questi cinque pulsanti, il pulsante visualizza, modifica, il pulsante informative, codice e rinnovo. Allora, il pulsante visualizza permette di andare a vedere tutti i cookie che sono stati rilevate con la scansione del dominio, quindi qui fa vedere tutti i dettagli relativi ai cookie che a consento.click ha individuato a seguito della scansione. Poi abbiamo il pulsante modifica, dove invece è possibile andare a modificare i dati del titolare del trattamento precedentemente inseriti e modificare i dati del BPO precedentemente inseriti, se presenti. Poi c'è il pulsante informative, dove è possibile andare a variare la privacy policy, perché per esempio il sito cambia le proprie attività, magari il vostro cliente inizia a fare anche trasferimento presso paesi terzi, lo attivate in maniera tale che la privacy policy si aggiorni in automatico. Infine abbiamo il pulsante codice, dove è presente il codice sorgente da cliccare per copiarlo e quindi andarlo poi ad incollare nello spazio html del sito, quindi dovete andare nello spazio html del sito e incollare questo codice prima della chiusura del comando body, in maniera tale che il widget di a consento.click sia facilmente richiamabile e attivabile in tutte le pagine del sito stesso. Infine avete il pulsante rinnova per mandarci la richiesta di rinnova annuale della licenza del vostro cliente, quindi poi il pulsante account dove è possibile gestire il vostro profilo creando una nuova password quindi per modificare quell'esistente e il pulsante di logout per uscire dalla console reseller, quindi dal back-end. Tornando sul front-end, ecco qua il widget di a consento.click che è facilmente richiamabile come vi dicevo attraverso il lucchettino, come richiede la legge, grazie a questo centro di controllo il navigatore potrà non solo andare a vedere tutti i trattamenti che riguardano i suoi dati e quindi vedere separatamente quali sono gli scopi per ciascun trattamento, ma potrà anche tenere traccia di tutti i cookie rilevati e quindi andare ad attivare il proprio consenso a revocarlo in qualsiasi momento con la stessa facilità con cui l'ha concessi inizialmente. Nello specifico nella sezione informazioni su questo sito è possibile andare a vedere quali sono i dati di contatto del titolare del trattamento e del DPO se il nominato, che sono quelli che avete inserito nella console reseller. Dopodiché nella sezione i miei diritti l'utilizzatore potrà consultare quelli che sono i suoi diritti in qualità di interessato navigatore, ossia il diritto di informazione, il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto di cancellazione, il diritto di limitazione al trattamento, il diritto di portabilità dei dati e il diritto d'opposizione. All'interno di ciascuno di questi diritti c'è un collegamento ipertestuale all'articolo che vi permette di aprire il regolamento europeo GDPR sulla privacy. Inoltre c'è anche indicato, menzionato l'email del DPO per esercitare un'eventuale azione di reclamo per l'autorità di controllo. Tornando indietro, il navigatore potrà consultare il proprio profilo privacy, ossia un codice ID automatico, anonimo, che gli consentirà di utilizzare ed esercitare il proprio diritto di accesso. Infine ci sono le due sezioni fondamentali che sono informativa privacy e gestione cookie. Quindi nella sezione informativa privacy lui vedrà l'informativa privacy in maniera del tutto dinamica, nella quale saranno attivi solo i trattamenti che avete attivato attraverso la console reseller. Questi trattamenti saranno quindi avvertenze importanti, durata della conservazione e cancellazione, tipologia ai dati trattati, che sono quelle sempre attive di default. Poi ci sono le altre attivate volontariamente in funzione di quello che il sito svolge, ad esempio e-commerce, che l'abbiamo attivato prima, e da chi sono trattati i vostri dati, che è un campo obbligatorio, e newsletter perché l'avevamo attivato dalla piattaforma Resel. Dopo, cliccando sul pulsante stampi informative, il navigatore potrà anche vedere in PDF e quindi stampare la privacy policy, cosa che le soluzioni concorrenti non permettono di effettuare. Infine c'è la console, la sezione gestione cookie, dove il navigatore può andare a consultare cosa sono i cookie e quali tipologie di cookie esistono, quindi cookie di sessione, cookie presenti, cookie originali, cookie di terze parti, cookie tecnici, cookie di profilazione. E quelle che sono le base giuridie, quindi il considerando 32 del GDPR e quindi che cosa prevede. Poi sotto, la parte fondamentale è quella dove vengono indicati tutti i cookie presenti sul sito, quindi quelli che a consento punto clic ha rilevato. E come vedete gli unici cookie attivi sono quelli necessari, che non possono essere disattivati in quanto necessari al funzionamento del sito. Tutti gli altri sono bloccati come situazione appunto di default e potranno essere attivati dall'utente solo qualora sia frutto, l'attivazione sia frutto di una sua scelta su base volontaria inequivocabile, come richiede la cookie. E che lui possa revocare un consenso dato con la stessa facilità con cui l'ha concesso inizialmente, semplicemente cliccando sul lucchetto di a consento punto clic e aprendo quindi il suo centro di controlli. Acquista adesso la tua licenza attraverso lo shop di a consento punto clic.